Ehehehe Il giubbotto leggermente inzuppato non è reato e quindi cosa succede? E ora sono venuto dal mastro che non è salmastro e l'attenzione per dettagli fa la differenza e il mastro esce doveva andare un attimo di là e mi fa ti ho attaccato vai in bagno e mi fa e gli ho detto non devo non devo gabbiare l'acqua di olive no, ti ho attaccato il FON FON, non FON se dice FON P-H-O-N se tu madre, se tu padre dicono FON se tu nonno, se tu nonna dicono FON non vuol dire che si dica FON se ci resti male, mi dispiace, ti ho tolto una certezza, la prenderai come una critica non si dice FON non si dice a mamma, non si dice a papà non si dice a nonna, non si dice a nonno non si dice FON si dice FON è un termine straniero e allora che fai? ti siedi e fai di questo perché l'è bello, l'è bello qua non è che bisogno che se ti riuscite tutto se bagna qua e non se bagna qua se si è bagnato qua e non è bagnato qua è bagnato là ma non è non è presciato non è reato è presciato quel mastro, senza io diresi nulla l'ho fatto trovare il foglio e secondo te sto male? eh, sono le attenzioni nulla oltre il rispetto è dovuto quindi le persone che sono quelle che hanno le prime attenzioni che non devi chiedere che non avrei chiesto nulla perché avevo la lavatura un po' bagnata quindi sto qua infatti è questo sto con il mio razzano se non si dice né di questo né si lascia il mignolino non si fa di questo così c'è scherzo sarebbe FONO a nonna, a mamma a papà a zia non scherzosamente ma seriamente non si dice che lo dica tua mamma che lo dica tuo papà che lo dica tua nonna non si dice che sto ti sto dando l'opportunità di non fare delle serene giure di merda in società se poi vogliamo rimanere nella barbaggia 1938 c'è stata la guerra la famiglia è venuto da il sano senza scappe e vabbè ora stavo nel 2018 stai a Roma FONO e a mamma non si dice se fai continuato a dirlo io ma sono lo dico male uuuh le mani 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 Grazie a tutti.